A partire dal prossimo, primo luglio, la spiaggia di Alba Adriatica diventa off-limits per i fumatori, una scelta quella dell'amministrazione del Comune Costiero Terramano unica a livello regionale, condivisa anche dalle associazioni turistiche e dai balneatori. Dunque divieto di fumo su tutto il litorale, spiagge libere in concessione, nella pianeta litorale e addirittura nello specchio d'acqua di competenza comunale, e cioè fino a 200 metri dalla riva. Il divieto di accendere sigaretti in spiaggia si lega anche ad un altro divieto, e cioè quello di gettare i rifiuti prodotti dal fumo in acqua sugli arenini e nelle pinete, ma anche su tutto il territorio comunale. Salate le multe per chi non rispetterà l'ordinanza, che sarà punito con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, e in alcuni casi anche con una denuncia penale. Noi condividiamo con l'amministrazione comunale la scelta presa, e chiaramente ci aspetterà a noi informare il turista di tutto ciò che è stato deciso, quindi cercheremo di far rispettare questa cosa, però con la massima gottela dovuta nel rispetto proprio dell'accoglienza turistica. È innovativo, però da un punto di vista comunale si sta andando un po' in questa direzione, quindi appoggiamo la scelta e cerchiamo di collaborare al meglio con tutti. Verranno realizzate delle aree ad hoc per chi vuole fumare? Sì, all'interno degli stabilimenti banneari metteremo a disposizione delle aree dove si potrà fumare come pure dei posaceneri all'ingresso delle concessioni, e quindi potranno fumare, continuare a fumare tranquillamente all'aperto, però in apposite aree.